ciao bambini oggi faremo un video di cucina cucino io cucini tu? e allora ti ho portato una cosa cos'è un cappello da super chef cominciamo? innanzitutto bisogna andare a fare la spesa che cosa ci serve vediamo il pesce ci serve? yes la tagliera? il coltello a me non piace la tagliera e questo per girare le cose? si piatto? il cornetto? no non è oro per le pasta il dolcetto? no ma quello li serve per il dopo il dolce ma quello la sambella prendiamo per i dolce poi la fragolina ci serve? no vediamo la zuppa ci serve la zuppa? il sugo il gelato per il dolce voglio il gelato dopo proviamo il pane ci serve? si si il panno il coltello vediamo cosa abbiamo il cono il cono serve? no quanto gelato la pinta da cuocere guarda ma quanto gelato vuoi prendi il gelato? ma per me la panna ahi ci hanno pregato la scottolina le patatino la prendiamo? si le patatine le patatine guarda dove faccio nemmeno? guard- guarda 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 ma li abbiamo i soldi, dicono che cosa mangiamo, me ne ho troverò, vedete qua ma mi sta per il coltello te l'ho preso il coltello, l'ho dentro dove? l'ho preso, ora se ne troviamo anche, te lo prendo guarda quanti già ti abbiamo l'altro per le patatine ti prendo un altro coltello ci siamo basta aspettami, devi dare i soldi per pagare compriamo anche questo compriamo anche questo qui ci abbiamo, non mi sono dentro a pagare metti sul conto ok cominciamo con cosa cominciamo? prima dobbiamo sistemare i piatti, le posate e sistemiamo prima tutta la roba ok il bicchiere lo mettiamo qua la zuppa la cuciniamo e quindi la mettiamo qua i piatti? no no, quello che cuciniamo lo mettiamo in tutto ok ok, dopo dopo allora no, quello che dobbiamo cucinare adesso lo mettiamo di qua perché dobbiamo far vedere cosa cuciniamo vedi qua, quindi vedi la zuppa io adesso voglio cucinare le patatine e mettile qua, ora facciamo vedere cosa facciamo facciamo tutte queste cose questo è il dolce per dopo no ci sono anche piccolo, questi sono i disseri, li prendiamo dopo il pollo non lo facciamo? il pollo si il pane, il pane, il pane allora io voglio, per piacere vorrei il pollo con le patatine e anche il pesce con le patatine puoi farmelo? si, allora ci sono le padelle, le pentole ok venga il pollo pollo ma il microonde lo fai, non lo fai nel forno? si può fare anche il microonde? ah si ma ci vuole più tempo accendiamolo prendilo mettiamo qui metti la pentola, cosa fai? pentola mettiamola dentro dentro poi schiacciare metti schiacciare qui facciamo così schiacciare il pollo si e poi come funziona? il pollo ok aspettiamo che si cuoce intanto che si cuoce cosa fai chef? io posso aiutarti a tagliare il pesce? no, faccio da sola da sola? da sola ah troppo non vediamo che è piatto ah scusami ecco poi le patatine si fanno in forno questo lo faccio nel microonde il pesce nel microonde guarda ti ho preso un'altra pentola per il pesce ma lo sai che c'era anche tutta nel pollo? e lo faccio nel pesce lì ti metto un po' di zuppa facciamo la zuppa di pesce questo mi chiamiamo i regali ah scotta ci sei scottato mmm che profumo e questo lo mettiamo da parte questo poi lo fa guarda poi questo lo ha messo nel piatto eh ma questo qua dentro cos'è il pulsante del pesce? eh lo piacciamo lo piacciamo anche si può fare quello del pollo ok aspetta aspetta ora devo mettere la zuppa che coppia sei? mettiamo la zuppa aspetta dove è che si accende ecco ok ora lo metti dentro lo metti dentro metti anche la lucina fai vedere la lucina qua fino all'angolo intanto io metto a prezzere le patatine adesso schiaccio il pollo aiutami pollo si poi schiaccio questo questo pollo start e start e questo no quello è start esatto ecco io non le hai messe però le devi prezzere tu perchè io le sono messe dentro come si fa prezzere? come si fa prezzere? va così? ecco devi spingere fatto ah mettiamone anche questo entro al piatto no dentro il pacchetto ah dentro il pacchetto hai ragione ahia ah piano piano preggi anche queste così le mangiamo tutte e due le patatine e ora ci rimane solo da fare la pizza fatto ci rimane solo da fare la pizza adesso come la fai la pizza? allora è pronto lasciamo linea la pentola e chi lo vuole se lo prende questa altra pentola? ok manca solo la pizza pizza dov'è? pizza allora la facciamo di qua prendendo questo per la zucca così? vai apri opla mettiamo dentro serve un piatto piatto? no l'ho preso è questo ah benissimo dopo che vuole l'insalata l'insalata l'abbiamo comprata dai eccola qua l'ho comprata in realtà già pronta e via mmm tra poco potrei cominciare a mangiare sei contento? voglio proprio vedere se hai fatto un buon piatto ci vuole tanto io nello stomaco che brontola mi sono mangiato una patatina no dobbiamo mangiare insieme adesso vediamo no 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 ora scotta scotta ecco basta il porno bravo opla cominciamo a assaggiare comincio ti dico com'è? si serve la forchetta la forchetta vediamo si io amo tanto sacco di patatina e non sono buone mmm ora ci resta solo il dolce uuuuuh piano quale vuoi? vabbè 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 faccio io dolce no no non ti metterli in forno no niente più dolce no allora e quale vuoi? il gelato quello marrone il piettolo al cioccolato mmm Io invece mi prendo Tutti due Va bene Per questo video tutto Ci vediamo al prossimo video bambini Questo qui in metà Ok ciao